Un gruppo di ragazzi neodiplomati o all'ultimo anno, curiosi di imbattersi in una nuova esperienza, hanno partecipato all'European Landscapes, un Erasmus completamente gratuito all'estero. I ragazzi, durante l'incontro finale, hanno raccontato entusiasti le loro esperienze. Io sono Milena Kristic e sono stata un mese in Lituania per un'esperienza di Erasmus. Lì ho lavorato in un'agenzia di viaggi, Vilnius City Tour, nella quale mi sono trovata molto bene. La consiglierei fortemente a tutti perché è stata un'esperienza molto formativa, ho potuto comunque migliorare molto il mio inglese, non in fatto di linguaggio ma comunque ho parlato molto e quindi mi ha aiutato molto appunto in questa cosa. Quindi è un'esperienza che comunque secondo me bisogna fare, soprattutto alla nostra età, perché comunque anche il fatto di organizzazione e il vivere da soli aiuta molto a migliorarsi, migliorare se stessi e conoscersi. Io sono Giulia Finardi. Io sono Mischa Terna Vanessa. Entrambe siamo state in Lituania un mese a Vilnius e abbiamo lavorato in un'agenzia turistica che si occupa di organizzare tour per la città e in tutti i paesi del mondo. Infatti l'impresa si chiamava Vaiduo Cleai, quindi l'impresa di Vaida, e praticamente era una start-up e quindi lei è riuscita a tirare su questa attività e ad introdursi nel commercio di tutto il mondo e quindi a far promuovere la sua attività di Vilnius. Abbiamo vissuto questa esperienza in modo molto positivo perché secondo me è una delle esperienze che almeno una volta nella vita bisogna fare perché comunque ti arricchisce sotto ogni punto di vista, sia per quanto riguarda il mondo del lavoro e dell'apprendimento per esempio della lingua ma anche sotto un punto di vista personale. Esatto, riguardo soprattutto la crescita personale perché comunque ti allontani da quello che è il tuo nucleo familiare e vai in un luogo totalmente diverso, con delle persone diverse e comunque devi adattarti alla situazione. Quindi è proprio un modo per capire come essere nella vita e non come essere a casa perché a casa ci sei stato per 18 anni. Ciao, sono Fabio Bettinelli, ho passato un mese a Berlino, ho lavorato in un tour operator specializzato a Cuba perciò mi sono trovato con un po' di responsabilità perché ho dovuto, come mi hanno detto loro, aprire il mercato italiano, ovvero tradurre principalmente il sito in italiano. Mi sono trovato molto bene nonostante fosse un'esperienza molto nuova per me perché mi sono ritrovato in una capitale europea, una capitale molto grossa, completamente da solo perché ero in un appartamento per conto mio, perciò c'è stata questa difficoltà aggiunta che però sono riuscito a superare tranquillamente. Berlino è una bellissima capitale, è multiculturale, perciò c'è davvero di tutto e da tutte le parti del mondo, perciò consiglio altamente la città. Ciao, sono Daniele San Giovanni, sono stato in Lituania grazie a un progetto Erasmus, ho fatto uno stage lavorativo dove ho preso parte a lavorare in una reception, in un ostello dove ho avuto i colleghi madrelingua, è stata un'esperienza bellissima perché la Lituania è un paese che non ti aspetti sia così tecnologico e sviluppato e invece ti sorprende anche per la tranquillità e il modo che hanno civile di parlare con gli stranieri. Ciao, sono Panetta Marco, grazie all'Erasmus ho partecipato ad un tirocino a Bordeaux in Francia. È stata una bellissima esperienza perché nonostante sapendo pochino la lingua ho imparato molto a comunicare con le persone, a chiedere informazioni e ho imparato tantissimo anche la cucina francese, specialmente la pasticceria e a convivere con le altre persone, a sapermi gestire autonomamente con tutte le faccende che dovevo fare, casa lavoro, lavoro casa e tutte le cose che potevo fare fuori da solo, uscire con le altre persone che erano insieme a me. È stata a Berlino tre mesi, dal 22 luglio fino al 20 ottobre e ho lavorato in un'agenzia che si occupava di viaggi, di organizzare viaggi a Cuba quindi per me l'esperienza è stata molto positiva perché ho imparato, anzi ho migliorato l'inglese, il tedesco e anche lo spagnolo che è la mia lingua. L'unica cosa che avrei da dire è le persone che sono venute con me una di loro non parlava assolutamente l'inglese e mi hanno dato parecchi problemi a livello di convivenza poi per il resto è stato tutto perfetto. Francesco Gurliaccio, ho passato un mese in Erasmus, in Polonia. Angelo De Caro, anch'io un mese in Erasmus, in Polonia e nel mese di settembre è stata un'esperienza molto interessante perché abbiamo avuto la possibilità di parlare molto l'inglese e di migliorare le nostre capacità di autonomia. Inoltre pensiamo che la città di Szczesow in Polonia sia una città molto valida per giovani come noi perché offre molte possibilità e anche dal punto di vista umano come cultura è una città molto interessante che anche se non è conosciuta penso che sia una città molto valida sotto tanti punti di vista.